Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TGN Cultura. Oggi ci addentreremo alla scoperta un po' più dettagliata e alla spiegazione dell'Eosgo Talent, ossia il Talent Show del liceo scientifico Leonardo da Vinci con due ospiti molto speciali. Benvenuti ragazzi. Ciao Carolina, un saluto a tutti. Allora abbiamo Federico Ursi, regista. Benvenuto Federico. Grazie, ben trovata. E Leonardo Cinquegrana, uno dei rappresentanti d'istituto del liceo Leonardo da Vinci di Genova. Come state intanto? Ci sono state mille corsi, mille situazioni un po' così. Siamo bene. Oggi è stata una giornata, insomma, oggi al momento in cui stiamo registrando, è stata una giornata pregna, perché comunque abbiamo avuto la conferenza stampa la mattina, poi la riunione dello staff al pomeriggio. È stata una giornata impegnativa, però si sa che gli ultimi giorni sono sempre particolari, sono sempre pregni di... Esatto, quando siamo agli sgozzoli poi figurati. Allora vi chiedo un po' di spiegarmi il Talent Show nel dettaglio. A voi la palla, come volete, in qualsiasi forma e salsa. Allora, io innanzitutto credo che la cosa migliore sia farcelo spiegare da chi poi lo vive a scuola, perché io ormai la scuola l'ho finita da un pezzo. Quindi penso che la cosa migliore sia farcelo spiegare in realtà da chi lo vive tutti i giorni. Quindi io cederei l'onore della prima palla a Leonardo per le sue impressioni, cioè nel senso nulla di che, ma per raccontarci un po' come si vive dall'interno. Questo Talent, cosa vuol dire per lui, ecco. Diciamo che siamo orgogliosi di presentare questa trecissima edizione dello Sgot Talent, che è un Talent appunto molto rinomato nel nostro liceo scientifico. E ovviamente anche un po' ansiosi, perché dovremo presentare anche ospiti speciali, ma allo stesso tempo anche curiosi di vedere un po' come funzionano le dinamiche, i rappresentatori e le emozioni che possiamo provare. Certo. Quindi speriamo di divertirci sicuramente e divertire il pubblico e di passare al meglio questo fine dell'anno scolastico. E auguriamo a tutti appunto di divertirsi. Sì, perché è un impegno che comunque vi state portando avanti da inizio anno, nel vostro caso specifico, che siete rappresentanti dell'istituto, per poi avere il risultato finale appunto. Ci sono stati anche dei casting, come si sono svolti questi mesi e com'è stato l'approccio anche dei ragazzi? Abbiamo iniziato subito, visto che è molto importante per la nostra scuola, appena eletti quest'anno, circa novembre. Abbiamo iniziato tutte le cose burocratiche, possiamo dire, per questo Talent. Verso marzo invece abbiamo iniziato le audizioni, quindi abbiamo selezionato i partecipanti. Alla fine siamo arrivati ad avere sette partecipanti per la musica e invece due per il reparto di danza. È stato abbastanza impegnativo come progetto. Comunque io quest'anno ho anche la maturità, quindi sono un po' diciamo alle strette, siamo vicini. Però sicuramente poi vedremo come andrà il Talent. Sono molto fiducioso e anche molto contento, perché comunque è una soddisfazione presentare e provare appunto queste nuove emozioni. E poi anche un percorso, secondo me, che aiuta anche i ragazzi, vabbè, oltre alla formazione, anche a divertirsi. E che premi poi ci sono anche in ballo? È sicuramente una bellissima opportunità per gli studenti, perché possono appunto esibirsi e mettere, far vedere le proprie abilità. E anche per chi partecipa allo staff è una grandissima possibilità per vedere come funziona appunto il mondo dietro le quinte. Quindi in generale, se qualcuno è interessato all'ambiente cinematografico, comunque teatrale, è sicuramente una grandissima opportunità. Certo. E invece ci sarà anche una giuria e tanti ospiti. Si possono dire, si può dire qualche nome? Oppure io sono top secret fino all'ultimo. Qualcuno sì, qualcuno no, nel senso. E diciamo qualcuno sì, allora. Diciamo qualcuno sì, no. Allora diciamo, possiamo partire sicuramente Aldo Descalzi, presidente di giuria, riconfermatissimo, insomma per, è ovvio non riconfermato tanto da parte nostra quanto da parte sua come disponibilità. Quindi lo ringraziamo infatti per questo. Assolutamente sarà un presidente di giuria che indubbiamente porterà ancora quest'anno un grandissimo valore aggiunto grazie alla sua esperienza, le sue numerevoli tra candidature, vittorie, tutti i premi possibili. Peraltro sarà poi anche protagonista lui stesso sul palco in un momento molto particolare, molto toccante, che insomma ci teniamo un po' come sorpresa, però sarà un ricordo molto particolare, molto commosso. Chi lo conosce un po' meglio potrà già intuire di cosa sto parlando, però ce lo teniamo un po' come sorpresa. E avremo Daniele Racco, il comico, lo stand-up comedian genovese, passato da Zelig, insomma, che anche lui non ha voluto far mancare il proprio contributo a questa serata finale. Avremo i cromosuoni, i cromosuoni vocal ensemble, il coro diretto da Maya Forgione, che ci porterà due brani in acustico, quindi ci farà ascoltare, insomma il talento di alcuni dei propri componenti. E infine avremo Alfa, di nuovo il rapper genovese, che anche quest'anno appunto, anche lui ha accettato con piacere il nostro invito, quindi più, più chiaramente, tanti altri ospiti. Top secret. Top secret, almeno non possiamo proprio svelare tutto, direi che già il rapper è abbastanza nutrito, e quindi diciamo che è già abbastanza importante la situazione. Sì, è già comunque bello sostanzioso, ma avete dato dei nomi nel senso belli importanti, quindi io sono già contenta così. Federico, tu invece hai fatto tutte le edizioni praticamente del Leo Sgottale. Tutte le edizioni del Leo Sgottale. D'accordo. Detta così, detta così sì, diciamo che è stato un percorso di 15 anni. Di 15 anni, due anni chiaramente ce li ha portati via la pandemia, per i motivi che sappiamo tutti, insomma, peraltro l'edizione del 2020 era veramente lì lì per essere portata in scena. Ci siamo dovuti arrendere giusto a marzo, insomma, quindi veramente mancava poco. Ricordo che per esempio per i casting c'è stata una disperata ricerca della location, poi man mano tutte le varie location incominciavano giustamente a dirci no, noi non possiamo, abbiamo dei vincoli, abbiamo delle limitazioni, e quindi è stato poi veramente un peccato, al di là chiaramente di tutto il resto, questo aspetto è passato in secondo piano, però è stato veramente un peccato. Ci siamo rifatti, direi, con gli interessi, con il sold out dei sold out l'anno scorso. Io ho visto anche numeri importanti negli anni comunque, di spettatori, di gente che ha assistito al talent sold. Assolutamente sì, 12 sold out, più di 12.500 spettatori dal 2009, che è poi l'anno in cui siamo andati in scena per la prima volta, più di 1.600 persone tra addetti ai lavori, in senso largo, quindi sia la parte tecnica che la parte artistica, l'organizzazione, lo staff, quindi sono numeri sicuramente ragguardevoli, sono numeri di cui andare assolutamente orgogliosi, nella misura in cui abbiamo potuto insomma rappresentare un trampolino di lancio e per diciamo la parte appunto artistica, perché alcune persone passate dal palco dello Sgottalent poi hanno preso il volo, altri già erano insomma in rampa di lancio in modo importante, e anche spero grazie a noi poi hanno proseguito il loro volo, e anche dal punto di vista tecnico, perché comunque alcune componenti dei nostri vari staff, perché il nostro è uno staff di più di 100 persone che cambiano ogni anno, quindi alcuni componenti hanno scelto poi di intraprendere per esempio le professioni dello spettacolo, quindi è un mondo chiaramente molto duro, molto duro, ne faccio parte, quindi ahimè, è un mondo duro, è un mondo che parlandoci chiaramente nel nostro paese paga poco, paga male e paga forse, però è un mondo che sicuramente dà immense soddisfazioni, perché quando parlo della mia vita, quando parlo del mio lavoro, la prima cosa che dico è che sicuramente non mi annoio mai, non c'è mai un giorno uguale all'altro, e quindi è un lavoro che è duro, che però rende molto, rende molto come cuore, come anima, come corpo, che è sicuramente quello che ovviamente non solo io, ma tutti i nostri staff, perché non abbiamo uno staff, ne abbiamo tanti staff che si sono alternati in questi anni, sicuramente tutti questi staff hanno messo veramente anima, corpo, cuore, tutto il possibile nella realizzazione, nella realizzazione poi di un progetto che ha una gestazione ogni anno di nove mesi, cioè noi fino all'anno scorso, insomma, è un percorso lungo comunque, esatto, a giugno c'è la serata finale, da settembre si parte già con l'organizzazione dello spettacolo dopo, quindi è... un bellissimo gioco di squadra che aiuta i ragazzi sia, vabbè, a darci una mano a vicenda, ma anche a credere nei propri sogni, a buttarsi, a mettersi in gioco e poi anche a trovare una strada in qualsiasi forma, i ragazzi vogliano farlo. E invece, Leo Sgo Talent affianca un partner sociale e culturale, ossia Alice Liguria, l'associazione per la lotta contro l'ictus celebrale. In questi anni comunque l'ha affiancato parecchie volte, l'ha sempre affiancato oppure l'ha fatto negli ultimi... Allora, con Alice Liguria è il secondo anno, la seconda edizione che collaboriamo, in passato abbiamo avuto altri partner, cito ad esempio Unicef, è venuto anche il Presidente Nazionale, o FIDAS, la Federazione dei Donatori di Sangue, quindi abbiamo sempre cercato di portare un messaggio anche, tra virgolette, utile, cioè il talent non è chiaramente solo divertimento, ma è anche occasione, cassa di risonanza, occasione comunque per trasmettere dei valori e dei messaggi, e poi chiaramente avendo il nostro target principale, gli studenti, quindi i giovani, i ragazzi e le ragazze di una certa età, è sempre stato importante lanciare messaggi di un certo spessore, perché no? Di conseguenza abbiamo avuto, siamo passati, esatto, anche per sensibilizzare su delle tematiche importanti, siamo passati per esempio dalla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con le varie carte sottoscritte, i vari lavori a cui abbiamo partecipato, fino poi ad arrivare alla tematica importante della donazione di sangue, se non lo facciamo noi, che abbiamo l'età, abbiamo, si spera, le forze, la salute per farlo, insomma, chi meglio di noi può farlo. e quindi da due anni appunto siamo molto contenti di collaborare con Alice Liguria, perché banalmente dico la prima cosa che mi viene in mente, chi ancora ha la fortuna di avere i nonni, ma l'ictus cerebrale può colpire veramente chiunque, in qualsiasi momento, quindi è molto importante saper riconoscere i sintomi precoci dell'ictus cerebrale, in modo da intervenire presto, che è anche poi presto, è anche questo acronimo, questa sigla che è stata usata per, diciamo, promuovere il progetto. Quindi è importantissimo saper riconoscere i sintomi precoci dell'ictus e in questi mesi, in collaborazione con Alice Liguria, sono state effettuate delle, sono state svolte delle conferenze a scuola, degli incontri, con gli studenti, magari poi Leonardo ci potrà raccontare qualcosa di più, se avrà voglia, insomma, di queste conferenze, per proprio sensibilizzare su questo tema, quindi siamo molto contenti di avere questa partnership, perché permette veramente di lanciare dei messaggi importanti, oltre al divertimento, oltre alla parte artistica, oltre allo spettacolo di fine anno, c'è molto oltre, però è importante parlare anche di questo, poi certamente non è, non in maniera pesante, non vogliamo insomma appesantire, però è molto importante. Ma è giusto comunque inserire anche tematiche del genere. Invece Leonardo, quali erano le conferenze di cui stavo parlando adesso Federico? Sì, durante l'anno scolastico, parlando con la Preside, anche ha tentato di introdurre queste, diciamo, conferenze, per, diciamo, rendere questi argomenti più conosciuti, a persone che magari lo danno per scontato, o che comunque non sono realmente a conoscenza di questi argomenti trattati, per cui l'importanza per questo virus cerebrale, che può colpire veramente chiunque. Non tutti ne siamo a conoscenza, e secondo me, con i giovani di oggi, parlo anche nel mio caso, che sono ancora relativamente giovane, è molto importante essere a conoscenza di questi argomenti, non solo anche carattere medico, ma anche per il futuro. Comunque, usciti dal liceo, si ha la prospettiva verso un mondo lavorativo, e quindi è sicuramente importante essere pronti a nuove aspettative, e comunque per il futuro. Esatto, quindi pronti a qualsiasi situazione, è una prospettiva più ampia. Io ho un ultimo appunto da fare, che però non abbiamo detto, in questo quarto d'ora di chiacchierata, che è il tuo ultimo, le Osgo Talent, Federico, le Osgo Talent, sì. Abbandoni il talent. Abbandono il talent. Dico con una lacrimuccia, io vorrei che sono affezionata. Ci mancherebbe, diciamo che tutte le cose hanno un inizio e una fine, e questo, come abbiamo detto, è un parto, è una gestazione più che altro, non è un parto, è una gestazione lunga, nove mesi, che chiaramente sono nove mesi che portano via molto alla vita lavorativa, che ovviamente è sempre più pressante, è un mondo, come abbiamo detto, sempre difficile, sempre di corsa, e quindi, ahimè, però chissà che magari in futuro qualcuno non si voglia fare carico di una cosa che è patrimonio di tutti, quindi assolutamente speriamo che qualcuno possa portare avanti questa tradizione e sarò contentissimo di sedermi in platea, bello rilassato, e di poter assistere alla serata finale, quindi perché no? Ok, comunque complimenti per il lavoro svolto, te lo dico proprio sinceramente, ad oggi. Non abbiamo detto una cosa importantissima, al dove, quando e il perché, 7 giugno al Politeama Genovese Leos Got Talent alle ore 20, non l'abbiamo citata forse, non abbiamo detta questa cosa. Non l'abbiamo detto, ma lo diciamo adesso, anche perché abbiamo creato l'hype, abbiamo creato l'interesse, poi adesso dobbiamo dire come si concretizza, perché se no, giustamente. Esatto, i biglietti invece dove si possono trovare? I biglietti su leosgottalent.eventbrite.it oppure su tutti i nostri profili social o presso il liceo scientifico l'ho da Vinci. Va bene ragazzi, vi aspettiamo. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me, quindi un in buca al lupo ad entrambi, sia per la maturità, sia per lo spettacolo dell'eosgottalent e Federico per il futuro. Tanto ci vediamo più fuori dall'eosgottalent, nel senso, per tutte le cose professionali, ormai ci incontriamo spesso. Ho visto più te che mio padre, oggi con i miei, va benissimo. Viva il lupo. Ragazzi, grazie ancora, io ricordo ancora l'eosgottalent, il talent show che sarà in scena al Politeama Genovese il 7 giugno alle ore 20 e grazie mille per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo appuntamento del TGN Cultura. Grazie a tutti.